I riflettori nazionali si sono accesi oggi sul Dipartimento di Oncologia dell'Ospedale di Piacenza, diretto dal professor Luigi Cavanna. La Guida Sanità del Quotidiano Economico Il Sole 24 Ore ha dedicato una pagina all'esperienza piacentina, definendola un modello vincente di rete. Nell'articolo si parla della ricerca clinica che vede al centro il malato oncologico ed è componente fondamentale dell'attività quotidiana di medici, infermieri e tecnici. L'ASL di Piacenza ha creato anche il Gruppo Innovazione, Ricerca, Formazione e Rapporti con le Università, il cui coordinamento è affidato proprio al professor Cavanna, con il compito di stimolare la ricerca con approccio multidisciplinare, in cui cura e diagnosi sono formulate da un team di professionisti e non solo da un medico. In questo momento a Piacenza ci sono 37 protocolli di ricerca attivi per i principali tipi di tumore. L'integrazione tra ospedale e territorio si concretizza nella presenza degli oncologi nei tre nosocomi della provincia e in una casa della salute, assicurando così assistenza e cure avanzate ai pazienti vicino al proprio domicilio. Un altro elemento innovativo del Dipartimento riguarda la preparazione all'interno dell'ospedale di tutti i farmaci chemioterapici presso l'unità di farmaci antiblastici. A Piacenza inoltre il reparto di oncologia organizza da 15 anni corsi di formazione annuali sull'umanizzazione delle cure.